Ciao amici e benvenuti tutti nel mio canale, io sono Andrea Lanciotti, sono il vostro tecnico digitale e oggi ho voluto far partire prima il video perché sono i 2-3 giorni del Black Friday grandi offerte che metterò nel mio canale Telegram, offerte del tecnico digitale mi raccomando qui sotto vi metto il link in descrizione del canale Telegram voi vi iscrivete lì e ogni tanto quando vedo delle offerte veramente allettanti proprio tecniche che secondo me sono anche in buono sconto questa è la volta buona, ve le metto lì dentro, voi cliccate, fate l'acquisto e via e poi passiamo alla grande, grande, grande botta a grande boom, le nuove offerte Sky del Black Friday quindi iniziamo subito e partiamo allora come prima cosa se ancora non l'hai fatto mi raccomando iscriviti al canale lascio un like, attiva la campanellina per le notifiche e adesso partiamo prima bomba, super bomba è che se fai fino, mi raccomando, fino a domenica questa offerta è valida se fino a domenica fai un pacchetto Sky cioè Sky TV e Netflix più cinema o sport o calcio l'importante è che sia il pacchetto base con Netflix più un pacchetto a vostra scelta o se volete potete fare più pacchetti cinema, sport e calcio come volete, l'importante è che sia base più un pacchetto avrete in omaggio un Xbox S sì, avete proprio capito bene avrete in omaggio un Xbox S non vi arriverà subito mi raccomando, voglio chiarire questa cosa quindi non mi impallate di commenti ho fatto il contratto ancora l'Xbox non è arrivata è normale, ci metterà un po' di tempo poi seconda cosa non sono io che vi do l'Xbox ma è direttamente Sky che la spedirà a casa vostra questo era per chiarire però se volete fare il contratto se volete aderire a questa offerta bomba vi lascio qui sotto tutti i miei recapiti tutti i miei link per contattarmi voi mi contattate parliamo un attimo capiamo un attimo le vostre esigenze perché a seconda dei pacchetti scegliete anche i prezzi dell'abbonamento e a seconda di quei pacchetti e tutto quanto faremo il contratto per poi vi arriverà l'Xbox quindi questa è la prima offerta bomba di Black Friday che Sky fa per voi avete capito bene? sì perché se vuoi diventare un nuovo abbonato o e devi cambiare abbonamento o non lo so eri un vecchio abbonato poi hai distetto e tu vuoi ricominciare con Sky secondo me questa è la volta buona il pacchetto Smart come vi ho detto partirà l'offerta da 30 euro al mese in su poi bisogna vedere i pacchetti quindi se volete fare l'abbonamento a Sky questa è la volta buona poi seconda bomba di Sky seconda bomba di Sky uno due tre lo Sky Glass scontato si proprio vero lo Sky Glass scontato lo Sky Glass sarà scontato con ovviamente dovete fare anche l'abbonamento Sky questo ve l'avevo già detto nei precedenti video se ancora non hai visto il come funziona lo Sky Glass e tutte le cose vi rimando qui sopra da qualche parte per il video che ho fatto di spiegazione dello Sky Glass come funziona se siete interessati questa è la volta buona perché? perché prima cosa anticipo zero poi ci sarà uno sconto su tutti e tre i televisori a seconda del televisore c'è lo sconto vi dico anche i prezzi cioè il televisore il 43 pollici che costa 697 euro londri da pagare 572 in un'unica rata poi voi potete decidere se scegliere a 24 o 48 rate ovviamente a seconda del pacchetto e tutto quanto il resto per esempio c'è il 55 pollici che sta a 9,95 e che sta di listino a 9,95 e lo potete pagare 860 euro quindi è anche scontato poi c'è il 65 pollici che costa 1.293 di listino e lo andate a pagare 1.148 quindi veramente ragazzi una bella offerta questa bella offerta con l'anticipo 0 meglio di così non potrete andare se volete potete anche dilazionare a 24 e 48 rate ecco qua un bel televisore avete un bel televisore se volete l'interattività integrata ma questo qui ve lo lascio all'altro video successivo e secondo me queste sono le due offerte bomba quelle altre offerte ci sono io ci sono altri youtuber che vi mandano in continuazione cose scegliete quello che volete io vi mando secondo me le cose più interessanti del tecnico digitale quello che potete comprare voi ma queste offerte di sky ce l'ho solo io quindi mi raccomando qui sotto ci sono i link contattatemi lascia un like iscriviti al canale ci sentiamo per telefono ciao a tutti Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale se volete questa offerta è bomba contattatemi email whatsapp quello che volete e cercherò di soddisfare le vostre esigenze ok ciao a tutti Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao